Allora, buongiorno a tutti, oggi a Nexa parliamo di privacy by design e by default, due nuovi requisiti che sono stati inseriti nel regolamento gruppo di protezione dei dati. Il focus principale dell'incontro riguarda la descrizione di un lavoro di ricerca che abbiamo svolto con tre colleghe ricercatrici in giro per l'Europa che ha voluto cercare di scavare nelle pieghe di questo nuovo regolamento per capire i vari punti e i vari componenti di questi nuovi requisiti che data controller e tutti i soggetti produttori e designer di prodotti e software devono correre in essere. L'obiettivo dell'incontro è quello di presentare questo primo risultato cercando di capire e condividere le linee di evoluzione di questa ricerca e cercando anche di condividere possibili miglioramenti di questo framework che cerca di essere immediatamente uno strumento da consegnare nelle mani di chi deve implementare questi due principi. In particolare, uno degli aspetti fondamentali di questa ricerca è stata quella di costruire una linea di demarcazione netta tra il principio di privacy by design e by default e cercare quindi di chiarire tutti i vari step delle implementazioni.